Grazie a tutti. Faccio un po' la zona lombare, le ho, un dolorino. Un pochino più giù, sacro, sacro. Eccola. Ah, grazie Gianni. Ora fai con le ginocchia. Occhia, le ginocchia più sotto. Vai. Un po' più indietro. Un pochino. Perfetto. Perfetto. Senti? Fantastico. Stimuliamo tutti i chakra. Fantastico. Vai. Qui c'è anche della colonna. Ecco, poi anche fate così, bravo. Oscilla l'hamaca. Vai, così. Oscillazione e massaggio insieme. Perfetto. Come è? Un pochino. 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 Grazie.